Buongiorno a tutti, io e Francesca vi presenteremo dei dati molto preliminari ricavati dal registro Residras, che è il registro italiano nazionale della sindrome di Dravet e del PCDH19 e di altre sindrome correlate a mutazioni di SCN1A. Il registro nasce ormai qualche anno fa, grazie alla Dravet Italia Onlus che ha collaborato insieme a un comitato scientifico che si è molto impegnato nello sforzo di costruire questo strumento, che vuole essere uno strumento, appunto un registro, come sappiamo per molte altre patologie rare, che ha l'obiettivo di raccogliere in modo sistematico tutti i dati salienti dei pazienti. affetti, in particolare i dati genetici, le modalità di esordio della malattia, ma anche i dati clinici, neurologici, neuropsicologici e strumentali, inserendo i dati di risonanza magnetica e alcuni dati salienti degli elettroencefalogrammi. Nasce come registro, diciamo, della sindrome di Dravet, ma subito decidiamo di includere anche la protocaderina e infatti proprio tra i vari item esiste proprio la definizione di crisi in cluster, proprio per poter coinvolgere anche i dati di questi pazienti. Come vedete, si è poi diffuso in tutti i centri che vedete elencati, che vedete segnalati sulla cartina, sia nel nord che nel sud Italia. Questi sono i centri accreditati nei quali i medici che hanno in carico pazienti con queste patologie possono inserire i dati nel registro. Attualmente ci sono 442 pazienti inseriti nel registro, di cui 55 sono pazienti affetti da protocaderina. Sono tutte femmine e questi sono i centri che si sono accreditati e che hanno inserito pazienti appunto con protocaderina. Come vedete sono molti i centri che ci hanno permesso appunto di raccogliere questi dati, ma sappiamo bene che la stima dei pazienti italiani è molto superiore a queste, quindi un po' anche ci auguriamo che questi numeri aumentino nei prossimi anni attraverso l'accreditamento di più centri e l'inserimento anche di nuovi pazienti da parte dei centri già accreditati. Allora, queste 55 femmine sono ugualmente distribuite nel nord Italia e nel sud Italia. I dati genetici sono inseriti, ma è molto difficile sistematizzarli. Comunque diciamo che sono inseriti i dati nel dettaglio di praticamente tutte le pazienti tranne una, una sola ha una delezione e le altre hanno mutazioni missenso troncanti. L'età alla diagnosi è molto variabile in questi pazienti perché viene riportato anche nel registro il momento in cui è stata affattuata la diagnosi. Se in una metà dei pazienti è stata relativamente precoce, ossia entro due anni dall'esordio della malattia, c'è però ancora una fetta considerevole di pazienti che ha ricevuto una diagnosi più tardiva, ossia dopo i dieci anni di età. Qua vedete riassunte le caratteristiche dell'esordio della malattia. Allora, in tre quarti dei pazienti la malattia esordisce entro il primo anno di vita e sicuramente tra i sei e i dodici mesi esordisce la metà delle pazienti. È invece relativamente bassa il numero di pazienti che esordisce dopo i due anni di età. La prima crisi è stata, è occorsa in alcune bimbe in febbre e in altre senza febbre, però vedete subito che quando l'esordio è stato dopo il primo anno di vita, è più frequente l'esordio in una condizione di febbre. La semiologia all'esordio, e qua entriamo già nei limiti, se vogliamo, del registro. Allora, nel senso che se da un lato il registro ci dà la possibilità di analizzare in modo sistematico e longitudinale le pazienti, proprio perché quello che diceva prima il dottor Giordano sarebbe uno degli obiettivi del registro stesso, nel senso che nel momento in cui i centri si accreditano dovrebbero impegnarsi a inserire almeno un follow-up all'anno per ogni paziente, sia degli aspetti neurologici, elettroencefalografici e cognitivi, e quindi questo andrebbe proprio nella direzione di comprendere qual è la storia naturale della malattia. Quindi questa è la grande risorsa del registro, dall'altro il limite del registro è che senz'altro invece la distinzione tra stato di male convulsivo e stato nel senso di cluster di crisi, questo senz'altro si perde. E anche riguardando i dati abbiamo visto che senz'altro se si vuole fare un lavoro specifico sulla correlazione tra l'evoluzione lungo termine e i primi anni di malattia probabilmente bisogna scegliere un gruppo selezionato di pazienti in cui è possibile ricostruire nel dettaglio tutta l'evoluzione clinica e quindi distinguere bene di cosa stiamo parlando. La prima crisi comunque viene descritta dal medico curante come apparentemente generalizzata tonico-clonico nella metà dei pazienti e in un altro terzo dei pazienti anche un pochino di più come una crisi focale, motoria o non motoria. In un quarto dei pazienti viene riportato un cluster di crisi senza una specifica del tipo di crisi. Al momento dell'esordio è presente un ritardo dello sviluppo nel circa il 10% dei pazienti e questa è la fotografia all'esordio della malattia. Poi abbiamo voluto provare a fare una fotografia di tutte le 55 pazienti all'ultima valutazione che però vedete bene che è molto dispersa per età, quindi l'età media di questa popolazione è di 10 anni ma abbiamo bambine di 2-3 anni fino ad adulti. Quindi questo è anche il limite di un'analisi così raggruppata dei dati. L'epilessia persiste in più della metà dei pazienti e come già segnalato in precedenza l'incidenza di epilessia naturalmente si riduce con gli anni. Solo una paziente non è in trattamento, la maggioranza dei pazienti assume una politerapia. Poi Francesca vi farà vedere questi dati un po' differenziati a seconda dell'età delle pazienti. Al follow-up, all'ultima valutazione, si conferma l'estrema variabilità dell'outcome cognitivo con appunto più della metà dei pazienti comunque con un funzionamento cognitivo normale, border o mild. Quindi di nuovo questo è un elemento molto positivo rispetto alla prognosi. I disturbi del comportamento. Ecco, rispetto ai dati di letteratura l'incidenza dei sintomi autistici e anche a quello che ho sentito un po' riportare questa mattina è molto più bassa in questo gruppo analizzato. Vengono invece riportati altri disturbi del comportamento, il disturbo positivo, il deficit attentivo, l'impulsività e il disturbo ossessivo compulsivo. Ora veniamo a quella che è appunto un'analisi di correlazione preliminare su questi dati. Quindi il confronto tra l'evoluzione a lungo termine, cognitiva, comportamentale, la persistenza di crisi e gli elementi precoci della storia di malattia. Come atteso, la presenza di un ritardo di sviluppo all'esordio della malattia è di per sé un fattore prognostico sfavorevole. Infatti nell'80% di questi pazienti al follow-up è già presente un deficit cognitivo di grado moderato o severo. L'altro aspetto che emerge dall'analisi di questa casistica è che l'occorrenza della prima crisi in benessere è di per sé anche questo un fattore prognosticamente sfavorevole. Come a dire che forse non c'è neanche bisogno in alcuni casi più severi di un trigger come la febbre per avere la prima crisi. E poi confermiamo il dato segnalato appunto dal lavoro di Marina Trivisano che la precocità di esordio delle crisi è di per sé un fattore prognostico sfavorevole e per la persistenza di crisi ma anche per la presenza di un deficit cognitivo di grado moderato o severo e per la presenza di disturbi del comportamento. Quindi concludendo l'analisi proprio molto preliminare di questi dati confermiamo quello che era stato appunto osservato in questa casistica di 61 pazienti che l'esordio precoce e in particolare sotto i sei mesi è correlato a un outcome cognitivo povero e un alto rischio di disturbi del comportamento. C'è una correlazione in questi dati tra l'esordio precoce e la persistenza di crisi e in ultimo l'occorrenza di crisi a febbrili come prima crisi sembrano di per sé essere un fattore prognostico sfavorevole sia per l'aspetto cognitivo che comportamentale.